Ciao, mi chiamo Giorgio Minguzzi e sono un esperto di marketer, si sente bene, sentite tutti, anche quelli in fondo, quelli in fondo le leggono le slide, scusate, prima di cominciare sono davvero felice, sono anche emozionato di essere qui, prima di cominciare voglio ringraziarvi per essere venuti ad ascoltare. No, direi proprio che così non funziona, iniziare male una presentazione è un suicidio, ma allora come partire con il piede giusto? Beh, ci sono tre modi e oggi li vedremo tutti e tre. Benvenuti su Merita, il podcast per chi fa impresa, io sono Giorgio Minguzzi e oggi parleremo di presentazioni. Quante volte dobbiamo parlare in pubblico? Tante, tante per lavoro, capita spesso che in azienda si facciano presentazioni, a volte sugli show, nelle convention, negli eventi, altre volte si parla dai clienti, altre volte con i colleghi, con i superiori, con la proprietà dell'azienda e francamente l'incipit di una presentazione è davvero una componente molto molto importante. Ho imparato che in ogni cosa che capita nella vita c'è un inizio, uno svolgimento e una fine e anche quando prepari la tua presentazione è importante che ci sia un incipit, uno svolgimento e una conclusione, si spera il più logica possibile. Ecco, oggi cerchiamo di vedere insieme come preparare l'inizio della presentazione, cercando di farci ispirare dai grandi, da chi sa veramente salire sul palco e rubare l'attenzione del pubblico. Ora, perché l'inizio della tua presentazione è così importante? Perché i primi 10-20 secondi al massimo del tuo discorso sono quelli in cui hai il picco di attenzione da parte del pubblico. Solo 10-20 secondi non sono molti, sono pochissimi. Poi, persi quelli, perdi l'attenzione della platea. Gli astanti iniziano a pensare ai fatti loro, a cosa devono fare domani, alla moglie che gli ha chiesto di fare una cosa e loro si sono dimenticati e Dio non voglia che tu te li veda lì a testa china sul cellulare mentre scorrono il feed di Facebook. Che poi ti distrai, ti deprimi e la presentazione va anche peggio. Ecco perché è indispensabile che nei primi 10-20 secondi gli si dia un motivo per cui è meglio rimanere attenti. Vi sono tre modi di catturare l'attenzione, di lavorare su quei 10-20 secondi in modo che l'attenzione del pubblico resti incollata a noi. Il più efficace, secondo me, è quello di iniziare raccontando una storia. Abbiamo fatto una puntata intera sullo storytelling, perciò non vorrei tornare troppo su questo argomento. Se avete piacere riascoltate l'episodio 150 merita.biz barra 150 con la Anelli. È una puntata che a suo tempo andò molto molto bene. Sono sicuro che vi sarà utile riascoltarla anche in questo frangente. Ora però mi piace vincere facile, per cui voglio darvi un esempio di storia in un incipit e voglio farlo con un mostro sacro. Userò quindi Simon Sinek. Tiro subito giù l'asso di briscola e vi faccio ascoltare come iniziò lui un suo famoso TED Talk sulla leadership. Lo so, lo so, Simon Sinek è in inglese. Lasciatemi ne mettere uno in inglese. Sarà l'unico esempio in lingua straniera che vi farò durante questo podcast, poi gli altri li faccio tutti in italiano. Però vi sfido, vi sfido a non emozionarvi ascoltandolo. in Afghanistan, to help protect a group of government officials, a group of Afghan government officials, who'd be meeting with some local village elders. The column came under ambush and was surrounded on three sides. And amongst many other things, Captain Swenson was recognized for running into live fire to rescue the wounded and pull out the dead. One of the people he rescued was a sergeant and he and a comrade were making their way to a medevac helicopter. And what was remarkable about this day is by sheer coincidence, one of the medevac medics happened to have a GoPro camera on his helmet and captured the whole scene on camera. It shows Captain Swenson and his comrade bringing this wounded soldier who received a gunshot to the neck. They put him in the helicopter and then you see Captain Swenson bend over and give him a kiss before he turns around to rescue more. Bene, quando lui dice che il soldato si gira e poi va a rischiare ancora di più nel fuoco nemico, io mi emoziono sempre. Infatti mi sono un po' commosso anche questa volta. L'avrò ascoltato una decina di volte sto speech di Simon Sinek, ma io mi commuovo tutte le volte, sono un sentimentalone. Ora, se proprio non avete capito di cosa si stesse parlando, Sinek raccontava la storia di un atto eroico e allo stesso tempo molto tenero compiuto da un soldato in una battaglia. Ora, la storia ovviamente ha incollato la platea lì che pendeva dalle sue labbra. Siccome però ne abbiamo già parlato, non voglio perdermi tantissimo sullo storytelling. Mi preme farvi notare che la storia non dovrebbe avere voi come protagonista, ma la vostra audience. Sono loro gli eroi di quello che state dicendo e come spiega bene Don Miller, un autore che vi citerò poi nelle note dell'episodio, il vostro ruolo è quello della guida. Loro sono Frodo, voi siete Gandalf, non il contrario. Loro sono Luke Skywalker e voi siete Yoda. Ora, passiamo quindi al secondo modo di catturare l'attenzione del vostro pubblico, che è quello di scioccarli con un fatto meglio secondito dai dati. In gergo, il secondo modo, proprio per attirare l'attenzione, accalappiare l'attenzione, si chiama shocking statement e fa normalmente leva su delle statistiche, anche se alcune volte può fondarsi su un'opinione particolarmente controcorrente, che vada un po' contro i luoghi comuni. Ascoltiamo un esempio dell'impiego di uno shocking statement e ascoltiamo il professor Giorgio Vallortigara al TEDx di Trento qualche anno fa. Quanti di voi scrivono con la mano sinistra? Poteste alzare la mano, per favore? Potete usare indifferentemente la destra o la sinistra. Bravi, così ad occhio e croce secondo me sarete circa un centinaio. Mi dicono che in teatro ci sono circa 800 persone, per cui siete attorno al 10-15%. E questa in realtà è la percentuale che si osserva in qualsiasi sottinsieme dell'umanità. Ovunque, a qualsiasi latitudine, dove ci sono esseri umani c'è una maggioranza che predilige usare la mano destra e una minoranza che preferisce usare la mano sinistra. Se ci pensate è una cosa strana, no? Perché non è metà e metà? Già, già, perché non è metà e metà? Chissà perché. Ecco, poi ti vai a vedere il video su YouTube se ti interessa. Ad ogni modo, come hai ascoltato, il problema non è sconvolgere, ma smuovere, accendere la curiosità. Quello che fa la differenza in questa seconda modalità rispetto alla prima è la capacità di innescare in chi ascolta delle emozioni. Dobbiamo condividere con il pubblico delle statistiche capaci di avere un significato profondo per loro, per la platea. Questa è sicuramente la chiave per usare con maestria il secondo gancio per, diciamo, rubare loro l'attenzione. Se poi hai dubbi e vuoi vincere facile, ricorda la famosissima piramide di Maslow con i bisogni principali che smuovono ogni essere umano sulla faccia della Terra. La fisiologia, la sicurezza, l'appartenenza, la stima e l'autorealizzazione. Passiamo quindi al terzo modo. Il terzo modo di costruire l'incipit di una grande presentazione è quello di fare una domanda potente all'inizio del talk. Insomma, iniziare con un grande interrogativo. Personalmente questo metodo mi piace moltissimo anche se forse potremmo dire che è molto simile al secondo. È una variante dello shocking statement perché non usa le statistiche ma ad ogni modo punta a colpire subito la platea nel profondo. Capita infatti che spesso il secondo e il terzo metodo poi vengano fusi in uno solo, costruendo una domanda potente che interroga nel profondo la platea ma che contiene anche un sacco di dati interessanti e di statistiche di fatti concreti e misurabili. Se però desideri puntare sul terzo metodo ti consiglio di fare delle domande che partano chiedendo perché o al limite come. Anche in questo caso il perché è un po' come dice Sinek, no? Start with why. E il come vanno spesso a braccetto perché quando si comincia con il perché, diciamo il perché fa leva sulla nostra curiosità di arrivare alla risposta e poi però subentra il come. Quindi la voglia di passare alle azioni e così iniziamo a dire beh come posso fare questo? Come si fa? Eccetera. Spesso una sola domanda è più che sufficiente ad attivare i ricettori della audience e a colpirli nell'intimo. Ma c'è chi poi ne aggiunge altre e ne fa una serie. Ora abbiamo visto tre modalità per aprire la presentazione e in quasi tutte le occasioni queste vi basteranno assolutamente per poter fare bella figura. Ma quando nella platea si percepisce che c'è una certa tensione oppure quando la platea è davvero apatica e moscia perché forse gli hanno rotto le scatole per un troppo tempo prima di prima di voi c'è bisogno di qualcosa d'altro e in questo caso ti sarà utile una preapertura. Si chiama proprio così preapertura. Ripeto nel 90 per cento dei casi ti basterà uno dei tre metodi con cui abbiamo visto puoi iniziare una presentazione. Nel restante 10 per cento dei casi serve una preapertura. Insomma un diversivo. In questi casi c'è chi usa l'umorismo ad esempio per rivitalizzare la platea che magari è rimasta ore ad ascoltare gente noiosa e magari ha perso di verve. Oppure c'è chi è solito fare un collegamento con quanto la platea ha sentito fino a un attimo fa. Vediamo ecco un esempio vediamo un altro esempio ascoltiamo Luca Venturelli al TEDx di Bologna di qualche anno fa. Beh dopo aver sentito l'intervento di Piero Formica sull'elogio dell'ignoranza non so se devo sentirmi meglio o peggio perché sono molte di più le cose che non conosciamo di quelle che pensiamo di sapere. Ad esempio dell'universo noi conosciamo solo una piccolissima parte circa il 4 per cento. Il rimanente 96 per cento è a noi del tutto ignoto. Sappiamo solo che c'è della massa c'è dell'energia ma non sappiamo nulla di questa massa di questa energia tant'è vero che le chiamiamo massa oscura ed energia oscura. Carino come incipito questo un po' il mix di tanto di tante delle cose che vi ho detto prima. Qui bisogna essere chiaramente molto attenti perché è necessario aver seguito tutto ciò che è accaduto prima del nostro intervento e sapere bene cosa potrebbe stimolare l'ilarità del pubblico senza farlo ovviamente irritare e senza impermalosire i relatori che ci hanno preceduto. Un trucco che viene usato spesso come pre-apertura è quello di chiedere al pubblico di immaginarsi in una specifica situazione o in un determinato momento storico magari fargli rivivere l'adolescenza fargli rivivere qualche sfida che hanno vissuto. Ecco vediamo un esempio concreto e ascoltiamo un'illustratrice Francesca Presentini che costruisce l'incipist del suo speech al TEDx di San Giovanni in Persiceto proprio usando questo metodo. A quanti di voi sarà capitato di sentire almeno una volta di non essere in grado di affrontare una determinata situazione. Ora io a me è capitato due minuti fa prima di salire su questo palco ma vorrei che ci pensassi un attimo e provasti a ricordare quando vi è successo io nel frattempo provo a darvi alcuni spunti. Non sentirvi in grado di dichiararvi alla persona che vi piace. Io effettivamente quando ero un po' più piccola c'era un ragazzo che mi piaceva tanto e non mi sono mai riuscita a dichiarare anche perché lui era Zac Efron quindi c'erano un po' di problemi. Ma ancora non sentirvi in grado di partecipare a una gara magari perché gli avversari sono più forti e voi non vi sentite bravi abbastanza o ancora un colloquio un test di lavoro non sentirvi in grado di partecipare ad un concorso lavorativo perché fallire in quella determinata circostanza potrebbe voler dire non essere in grado di mostrare di non essere in grado di fare quello che avremmo voluto essere il lavoro della nostra vita. E brava Francesca che ci ha fatto tornare un po' con la memoria a delle situazioni che tutti abbiamo vissuto. È importante pensare anche ad un altro aspetto dell'incipit di una presentazione la post apertura. La post apertura è da considerarsi obbligatoria e consiste nello spiegare esplicitamente i vantaggi concreti che chi rimarrà attento potrà portarsi a casa di cui potrà godere. Mi ha sempre attratto chi riusciva a dire nell'incipit nei prossimi dieci minuti condividerò con voi e poi diceva qualcosa di interessante. Ora condividerò e non dirò racconterò era mi piaceva questa cosa fino a quando fino a quando un autore americano maestro di presentazioni Ted Talk mi ha mi ha fatto notare che il limite di questo approccio è che comunque rimane un approccio valido ma sempre distante dall'audience. insomma riguarda che cosa vuole lo speaker che cosa ritiene utile lo speaker. Insomma è lo speaker che ora dovrà dirti delle cose non non tu che sei il pubblico che andrai a guadagnare da ciò che ti verrà detto. Infatti da quando mi ha fatto notare questo aspetto ho rigirato completamente la frase ora suona più o meno così no a 20 minuti da ora uscirete di qui sapendo fare conoscendo padroneggiando poi aggiungo la cosa importante che ho voglia di comunicare. Questo è un modo di rigirare lo stesso concetto in maniera che l'eroe della storia rimanga il pubblico rimanga chi sta ascoltando perché ora l'audience si visualizza con una vittoria in mano e per ottenerla dovrà semplicemente fare una cosa darci un po' della sua attenzione. Quindi questa è una piccola vittoria che abbiamo a nostro vantaggio se riusciamo a mettere le cose in questa maniera. Questa post apertura spesso fa leva su un cliché che è di facile memorizzazione come le cose importanti lo sono di solito tipo le cinque strategie, le tre tecniche parlo di facile memorizzazione perché tutti si ricordano i dieci comandamenti ma moltissimi poi non li sanno elencare tutti. Ci sarà un motivo per cui da quasi 4000 anni tutti si ricordano che i comandamenti sono dieci, i dieci comandamenti sono dieci, tutti se lo ricordano. Cioè dai tempi di Abramo tutti si ricordano questa cosa, magari non li sanno però si ricordano che sono dieci. Penso sia un trucchetto che resterà ancora affidabile per parecchio tempo visto che dura da così tanto e sarebbe un peccato non approfittarne. Ora che abbiamo visto come iniziare una presentazione in modo da rubare la scena e ottenere l'attenzione del pubblico, ora sai cosa fare e non hai, io non ho da dirti altro, non hai da sentire altro. Ad ogni modo ti potrei aiutare facendoti qualche esempio di incipite da evitare come la peste in modo che tu possa restarne anni luce lontano. Evita quindi di iniziare con una citazione, anche se la prendi da un autore più importante del mondo, anche se è estremamente rilevante, la tua audience la percepirà come un cliché. Sai perché? Perché lo è, ha funzionato per il primo che ha usato sto trucchetto e poi è diventata una cosa monotona perché l'hanno usata tutti. Altra cosa importante non inizia non iniziare mai come ho fatto io all'inizio della puntata cioè ciao mi chiamo Giorgio Minguzzi e faccio cose poi metti lì il job title. Forse questo è veramente l'incipit più banale del mondo è quello che hai sentito trito e ritrito tutte le volte. Ovviamente non incominciare mai raccontando una barzelletta in particolar modo evita di offendere qualunque gruppo etnico religioso e così via anche se capisco che a volte innescare un bel flame possa essere davvero divertente. Altra cosa è non aprire chiedendo se si sente bene e se tutti riescono a leggere le slide. Soprattutto se sei felice di stare lì o se sei emozionato perché sei sul palco ti entro per te perché non frega nulla a nessuno. Tutto questo riguarda solo te e non il pubblico che è lì per prendere non per compatire te. Allo stesso modo non far sapere al pubblico che non ti sei preparato a sufficienza o che le slide le hai fatte ieri notte perché non hai avuto tempo prima. Cioè adesso c'è un limite a tutto ecco proprio vuoi che ti tirino gli ortaggi. Evita accuratamente inoltre di ringraziare la platea per essere lì perché devi fare in modo che siano loro a ringraziare te per le cose interessanti che dirai e non viceversa. Nessuno vuole vederti ringraziare per il favore che ti fanno asciropparsi la tua pallosissima presentazione e soprattutto non dire mai prima di cominciare perché perché mi spiace hai già iniziato sei già sul palco e come dicevo poco fa hai solo 10 20 secondi per accalappiare l'attenzione del tuo pubblico perciò stai sprecando tempo stai cincischiando. Ora sai tutto ciò che devi sapere sei pronto per affrontare il pubblico con un incipit capace di rapire la loro attenzione. Bene quindi non ti resta che andare su merita.biz barra 2 1 1 episodio 211 per prendere giù gli appunti della puntata. Lì sono già a tua disposizione i link dei video dei TED talk che ho citato e tutta tutte le cose schematizzate che ti ho detto finora. Mentre una serie di link a libri e risorse che potranno esserti molto molto utili per iniziare a lavorare sulle tue presentazioni ti aspettano iscrivendoti al gruppo telegram telegram.me barra merita biz scritto tutto attaccato telegram.me barra merita biz è gratis non costa nulla perciò prendi in mano il cellulare se non l'hai ancora fatto unisciti a questa ciurma di meritevoli. Bene davvero tutto per oggi io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast. Ciao!